salti tutti lucine rosse no si 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 andiamo su? andiamo su? andiamo andate che no no dove andate di lì? e dove andiamo? dall'altra parte? uffici uffici vai 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 che stanno già brecciando su vai penso che sia lo scav che ha brecciato come cazzo fa a brecciare lo scav dai è sopra? sto aprendo ma guarda se muore oh c'ha la zucca c'era la zucca che belli che siamo tutti con la zucca raga non ci posso credere e' assuta ma tu! aspetta che gliela appiglio via preso ma appigliategli il pompo glielo ho preso glielo ho preso anche chi ci aspetta anche chi ci aspetterà quello sopra eh e' ora quello sopra e' qua sera lui eh vuolo 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 che vuolo chi è che spara? fuori sotto a noi fuori sono uffici sono uffici sono uffici è morto è morto adesso è morto sono su uffici i vani sono chiusi l'ho chiusi io c'era un uffici qualcuno l'ha aperta la porta allora vi spiego io sto controllando uffici se qualcuno vuole andare andiamo io sono dietro di te sono sul tuo fianco guarda le scale siamo solo di sopra l'ufficio eh qualcuno ha brecciato però eh no no lì è sempre aperta quale è quella degli uffici? si la prima adesso è sempre aperta andate avanti in ponte raga che io copro scale io chiudo uffici raga si ponte 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 ci sono ok chiudo la porta del ci sei? chi c'è? chi c'è? chi c'è? arrivo accettaro a breccia a breccia? è morto è morto ex accettaro a breccia ah ok è quello che ha brecciato eh si eh ma perchè siamo in 4 ne manca il quinto e ombra a luttare uffici meno male che quello che dice no luttiamo per la fine si si guarda lascia perdere sei la novità una causa persa proprio uffici minchia manca un altro player stai sparando sul ferro stai sparando sul ferro no no è morto è morto tranquillo ok occhio che ti ribalzi le colpe in testa ragazzi è bellissimo con le zucche raga è veramente bellissimo siamo un po' dei dei lampioni ma noi ma chi se ne frega in factory tanto su ponte siamo tutti sul ponte ombra io e e e e e e scorpio ogni tanto usciamo per guardare nascolini io e scream io e scream io e scream scusa scusa eh lo so che ti piace scorpio però non c'è no mi ricordo neanche chi cazzo è scorpio scusa il timorato di dio non so perchè mi viene e mi viene e mi viene sport scusami scusa matti giuro ma non c'è problema no vabbè puoi sparare a ombra e quando ti chiamo scorpio non è un problema ma infatti vedi che non è con noi il bacchettone sta mutando tutto l'uva ora se lo spero adesso gli spatola e gli sparano e non potuto quello che ha come dei vicini così capisco se c'è qualcuno che è uno che mi copre le scale qui di fronte che apro la porta con la factory c'è c'è dai ah vai tu detto sì sì se mi fa passare questo qua eh rospri ok sto aprendo ok raga non ho trovato niente cazzo tuoi si avrà trovato il mondo quanti rubi quanti cosa hai trovato nella cassaforte una gold chain è un coso ma che palle ma sempre sta merda di fucile devo trovare no dove hai trovato il fucile ancora eh si sempre lo stesso merdoso fucile occhio la chiave di 100% o dove dove eh dietro il muletto ok mille l'offline è morto si ok questo è stato guarda lì guarda lì l'altro le scale siamo noi uffici è andato no posso usci ok si si esci 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 fammi entrare rospri rospri scusa chiudete che le cazzo di porte carico no 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 aspetta siamo noi dobbiamo entrare siamo noi ok ah che belle le cuse cozzetti oh bellissime che si è messo qua a fianco e mi spinge raga non me ne rendite conto che cosa ho trovato beh ammazziamosi una statua guardate che cosa ho trovato te l'ho detto è quella che ho trovato io guarda tira laggiù che ti dico se è quella e dove cazzo dove qua dove e no e rifammela vedere perché non l'ho visto no no perché me la prendi scema ma non te la prendo ma cosa sei scema che cazzo da dove ho visto voglio vedere solo se è quella che ho preso io è un leone è un leone io no allora non è quella io ce n'è una con le quattro punte dimmi quanto vale dal dal medico poi si o cioè comunque da quello che vale di più che non è il peacekeeper ti dico se è la mia beh aspetta ammazziamo dove sei ombra che t'ammazca te lo dico bene argenio capo scema no no basta 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 ragazzi basta basta ma si ma sprechiamo colpi ma chi se ne frega fatelo prate 180 su giro solo eh prima 120 prima 120 erano pochi io ce nò 6x6 più due caricatori quindi 7x6 7x60 quanto fa? 7x7 42 420 a volte li finisco anche io ne ho 360 no di a k è così impossibile finire ne ho 360 no 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 io li finisco dai raga andiamo a luttare dove luttiamo? come andiamo che andiamo a luttare? andiamo giù ma allora due player abbiamo fatto o uno? uno sicuramente uno sicuro e li da breccia e l'altro? nessuno l'ha fatto nessuno l'ha fatto sparano da doppia cassa credo o da un plan ah quello scavo che quello che c'era giù non ce l'hai? chi c'è sopra 1986 ragazzi? io io ok ma non ti ho sparato eh non è che no 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 ho chiesto sai perchè? perchè non vedo la zucca da qua come no? no non si vede manco per il cazzo guardalo un po' chi è? chi c'è qua? guarda un po' se gli vedi la zucca la sopra 1986 vedi che non si vede? allora è andato dentro il container no? è uscito di lato quale container? quale container? offline offline ah ok no gli ho preso solo l'arma a quello io eh ma dove siete voi? sotto sotto che stiamo andando verso offline qua a destra c'è uno uno coso ragazzi occhio perchè i camperoni di merda sono quelli che fanno più male eh perchè se ne manca uno hai lootato? comunque mi sembra che factory è 6 di nuovo non è che 6 la dici? si si no è 6 factory eh ma chi te l'ha detto? me l'ho guardato io l'ho rivisto io oggi chi che sta lootando il cadavere qua vicino? che andiamo vedere delle punte che si muovono è bellissimo è bellissimo allora scendo un attimo giù ma andiamo a vedere qua ragazzi voi dove siete? occhio doppia cassa dove? doppia cassa offline non lo vedo eh l'ho visto io andiamo dalla Grecia andiamo dalla Grecia andiamo dalla Grecia e lo vado a suicidare forse l'ho fatto chi c'è con la zucca qua sotto? io io noi siamo tutti noi con la zucca eh che ho fatto? ok questo qua l'ho fatto però mi ha fatto le palle di sua sorella è una breccia una breccia chi c'è qua? ok io sono qua dove siete? qua io ho ponte ok è morto questo qua dietro? fammi vedere la statua, la struttura ma aspettate che ne scappa ok è morto lì li avete già fatti tutti questi? minchia questo è un leone ah che bello è bello la mia era una cosa tipo a quattro punti era una cosa strana una specie di corona eh però sono cose carine che sono aggiungendo la sua sì però devono eliminare l'agame della corona di spine del cazzo non me ne f... guarda che non gli vedi la zuccala? vedi che non gliela vedi? a me? vedi ora ora se vai più se vai a 1986 non ti si vede adesso sì ma a 1986 non ti si vede avete ripulito quella zona là sotto del tunnel raga vedi che non si vede? si vede? eh si vede solo la luce si vede solo la luce si vede l'ora da lì in fondo ma guarda che cazzo si vede la luce? si effettivamente è un bene così li puoi ammazzare con la scusa che non si vede vado giù che voglio vedermene di fronte le zucchette andiamo 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 aspetta che chiudo qui ragazzi io non ho luttato niente eh c'è qualcosa da qualche parte qua c'è se c'è un fucile a popa lo prendo qua c'è una k no non mi lasciare qua da solo minchia mi hai lasciato qua da solo dove sei? eh dove andrà? ah vogliamo fare il giro ah ok qua c'è una k se vuoi eh dove se cazzo siete? siamo qua vai vai ragazzo mi un po' giro in sotto eh facciamoci il bravo no 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 chi è che ha fatto? stai fottendo te la k no 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 ah raga non ci stai no 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 raga facciamo il giro dei muletti in tutta la parte sotto dove sei dove siete? io non vi vedo occhio eccolo occhio scusa quella aspetta 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 dove siete? vese a sinistra minchia ma quanti cazzo erano? io sono qua in mezzo con qualcun due che non so chi sono io io e poi loro cia dove cazzo ci sono gli altri scusa siamo sotto silos alla S nei cunicoli noi eh ok dai venite giù dai non hai capito siamo già più giù di cosino usciamo dalla mappa ma la S che va verso muletti giusto? si ok sto arrivando no no cazzo raga però ditemelo che siete qua stavo arrivando ho detto sto arrivando ok ma dai ma ma mi piace ho detto ci stiamo arrivando ma va a cagare va ma sei un coglione va va ma porco dio ma finisce oma basta basta raga basta raga dai basta dai su può succedere su 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 vabbè vabbè ti salviamo la roba stai calmo dai ma ascolta basta ragazzi ragazzi avete la abbiamo la stessa maschera anche di scavolo campo lento di scavolo ne abbiamo beccati quattro soli si se tu mi hai detto siamo all'essere sto arrivando da silos io non ho detto niente appunto io ho detto stiamo arrivando vabbè vabbè ragazzi dai non problemi non problemi ombra vai tranquillo vabbè non ci avevi un cazzo su vabbè luttando su dovevate rimanere a luttare su e basta e facci dai da dove estraiamo dai buonanotte gente ciao su le due ciao notte ciao morto però sempre si paga vabbè ma che cazzo ma chiedigli scusa no almeno che cristo ma è vabbè ovvio che era scusa cioè però vabbè andiamo tanto lo lasciamo qui tanto che cazzo lo lutta ormai e no abbiamo ammazzato tu ci sono 24 non credo che vengano fuori scav player adesso vabbè non ci posso fare niente e poi mi restano visibili ma che cazzo ma vedi la zucca anche tu ti è mi ma ma la zucca non è che c'è un solo zucca eh mi ma possiamo cinchia dai ce n'è una sola per mappa zucca no no non è vero su factory si io l'avevo già ammazzato quello con la zucca e glielo ho preso vabbè 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 morto un cobas se ne fa un altro dai andiamo qua c'è un saigat che vuole usciamo di là dai 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 sottomuletti che ce l'ha fatto mi dispiace eh mi dispiace non piace cosa fare eh suicidati eh eh è la sua è la sua natura cioè ragazzi io vedo uno che cioè controllate un po' deadbox ragazzi allora mi hanno sempre detto è meglio un brutto processo che un bel funerale quindi l'ho detto dove vai che devo aprire la porta? hai capito ragazzi è meglio sempre un brutto processo che un bel funerale minchia due volte che apro la porta lì in ufficio con la factory due volte che trovo sto fucile di merda comunque mi dispiace per screen eh vabbè ma succede dai su